Hola Lucia Dores, ben ritrovati dal vostro Silver, eccoci qui a proseguire il nostro viaggio attraverso i misteri di Dark Souls 2 abbiamo lasciato indietro qualche pezzo succoso di questa nostra interpretazione del gioco perché si tratta sempre di un'interpretazione e io potrei sbagliarmi anche clamorosamente comincio a vedere che qualcuno comincia a dire la sua sulle mie teorie la cosa di poter condividere, analizzare insieme, mi piace, continuate, fate sempre più domande o ponete resistenza a tutto quello che vi dico che va bene così allora, noi abbiamo inteso Dark Souls 2 fino ad ora come un ricordo ma come nella magia del cinema i ricordi possono essere manipolati noi possiamo ricordarci di cose che non sono nemmeno avvenute vi faccio un esempio va beh, abbiamo il nostro mitico assistente digitale che ci aiuterà con questa schermata in sovraimpressione a vedere questo piccolo frame di un film famosissimo, Forrest Gump come vedete qui c'è l'incontro fra Forrest Gump e il presidente Kennedy una cosa che noi ci ricordiamo che abbiamo avuto modo di vedere tutti guardando quello splendido film ma che in realtà non è mai esistita quindi, anche intraprendendo questo viaggio in Drangleic inteso come un ricordo tante cose possono essere state ricollocate possono avere delle spiegazioni un po' particolari e via dicendo questo ha creato un enorme alibi alla Fromm e questo già lo sappiamo però ci permette anche di giocare con la fantasia e di arrivare alla conclusione che non tutto potrebbe essere appunto come diciamo sempre un errore abbiamo lasciato in sospeso tre cose molto grosse e lo faremo come analisi grazie ancora degli esempi cinematografici io mi auguro che vi ricordiate di cosa sto parlando sono un oggetto, sono un boss è un grosso punto di domanda che ho lasciato in sospeso ve li ricordate vero? vero? vediamo, prendiamone uno a caso tu! no, tu, tu tu, 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 decisamente tu ti ricordi di cosa stiamo parlando? dici a me ma dici a me ehi, ma con chi stai parlando? dici a me non ci sono che io qui ehi, ma tu con chi credi di parlare? ok, va bene sigla ed eccoci tornati a noi allora, dicevamo che abbiamo lasciato in sospeso determinate cose partirei da quella a cui tengo un pochino di più anche perché è una cosa molto sottovalutata molto accantonata e diciamo ricordata per cose che non sono prettamente quelle per cui dovrebbe essere ricordata e parliamo dello stocco di Ricard vi ricordate che ve l'avevo nominato? per me è un oggetto molto interessante perché spiega a fondo la filosofia di Dark Souls 2 il principe Ricard noi sappiamo dove lo incontriamo la prima volta in Dark Souls 1 e lo incontriamo alla fortezza di Sen è un avversario ostico per via dello spazio in cui ci troviamo ad affrontarlo che ci rende difficoltoso il concetto di magari fare i due backstab e lo porta in una situazione di vantaggio per via dell'arma che usa diciamo che in Dark Souls 2 troviamo solo la sua arma e questa cosa ci illustra che al personaggio di Ricard sono associate delle leggende che lo vedono come un grande trionfatore, conquistatore e via dicendo come colui che ha anche vincolato la fiamma, che ha fatto una scelta giusta possiamo supporle dall'alone di gloria che circonda la descrizione che troviamo nello stocco ma nella descrizione c'è anche scritto che di tante sue gesta non si sa nulla è disperso eccetera 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 quindi questo ci dà la dimensione di come deve essere vissuto un Dark Souls noi sappiamo che siamo il Chosen Undead di Dark Souls però siamo uno dei tanti Chosen Undead, non abbiamo questa esclusiva e molti di noi hanno portato a termine la loro missione in un modo, nell'altro, in entrambi i modi e tante missioni sono state abbandonate tanti hanno lasciato Dark Souls a metà e anche Dark Souls 2 magari quindi la teoria prosegue con questa in Dark Souls 2 chiaramente non siamo un non morto prescelto siamo un maledetto che è un'altra cosa quindi lo stocco di Ricard ci praticamente illustra come il punto di vista di determinate cose possa essere differente perché in determinate partite di Dark Souls qualcuno non l'ha nemmeno incontrato non sa nemmeno dove si trovi, non l'ha affrontato e quindi non ha memoria di Ricard chi non ha giocato Dark Souls non ha memoria di Ricard chi l'ha incontrato e l'ha battuto ha memoria di Ricard insomma abbiamo queste facezie racchiuse tutto nella descrizione di un oggetto che è stato tanto denigrato per via del fatto di essere trovato addosso ai ragni dalle parti di Zeldora ci sono molti motivi per cui si possa trovare addosso ai ragni di Zeldora sappiamo che da quelle parti c'era molta ricchezza e che i ragni si attaccavano addosso alle persone perché ci sono appunto anche questi esseri con il ragno che gli spunta dalla schiena che sono i vecchi abitanti di Zeldora che droppano anche la tunica, la veste di Zeldora quindi questi ragni possono benissimo avere dentro di sé queste armi sproporzionate in proporzione ai ragni, è vero però tante volte anche noi quando raccogliamo un oggetto che può essere uno scudo enorme in realtà vediamo una fiammellina grande così quindi è tutto molto relativo la dimensione che assumono gli item non dobbiamo stare a fare troppo i pignoli il secondo personaggio di cui, la seconda questione in sospeso di cui volevo parlare è una cosa che ha lasciato molte domande in sospeso diciamo che per molti è stato un regalo ai fan che saranno contenti andranno in brodo di giuggele e si fottano tutte le descrizioni passatemi il termine descrizioni detto questo avrete già capito di chi sto parlando sto parlando di quello che per chi ha memoria del primo Dark Souls che è una memoria del passato può essere uno dei personaggi più terribili che si possono andare ad affrontare avete capito di chi sto parlando, vero? Wendy? Wendy, il tesoro sono a casa e mi sono dimenticato gli affettati no, in realtà stavo parlando del vecchio ammazza draghi quello che nella teoria della nostra mente, dei nostri ricordi è Holstein noi sappiamo che ci troviamo in un mondo, in una dimensione dove sono stati condotti degli esperimenti dove sono stati intrappolati di giganti da un ricercatore, fratello del re il Lord Aldia quello che viene associato a Navlan e può essere benissimo come teoria molto affascinante anche perché le due personalità di Navlan ci fanno capire che abbiamo a che fare con due personaggi diversi in un unico corpo e anche le missioni che lui ci affida hanno un loro motivo però rimaniamo un attimino su Hornstein questa versione può essere un ricordo distorto noi siamo in un ricordo in teoria quindi in questo ricordo c'è spazio anche per un cavaliere che può essere stato incontrato altrove tantissimo tempo fa perché secondo la mia teoria che corrisponde a quel grande punto di domanda che era la terza cosa che avevamo lasciato in sospeso siamo nel ricordo di un Chosen Undead ci siamo? avete già intuito di chi sto parlando? ci poteva essere anche la teoria di essere nel ricordo di qualcun altro che potrebbe essere l'Araldo vista la dinamica di determinate cose però non sono convinto che sia prettamente così vedo molto più vicino il fatto che noi possiamo essere nel ricordo di Revendrick quindi tutto Dark Souls 2 è un attraversare la sua agonia il suo ricordo, il suo decadimento il decadimento del suo regno perché avremo modo di assistere alle battaglie e a quello che è il poi dopo la sua caduta, dopo la sua morte dopo che lui è diventato un essere maledetto che vaga nella cripta del non morto circondato appunto nel santuario di Amana dall'Emilfanito che con il loro canto fanno danzare le piccoline che tengono vivi i ricordi e li tengono calmi infatti noi nel santuario di Amana solo quando saremo vivi potremo avere accesso a quella stanza che rappresenta il trono nel suo piccolo dove troveremo gli item di Revendrick dopo averlo sconfitto nella cripta del non morto il che vuol dire che nel santuario di Amana c'è la parte viva della coscienza del ricordo di Vendrick e se noi facciamo bada a quello che troviamo all'inizio del gioco ci arriviamo con una barchetta parlo del video ci arriviamo con una barchetta arriviamo in un punto dove ci sono queste lucciole su un ramo su un albero e questo ci fa capire che siamo in un luogo diciamo dove si cammina a pelo d'acqua quindi Amana si presta molto a questa cosa e quindi diciamo che è anche giustificato il poter pensare che il ricordo in cui ci troviamo è quello del Revendrick e noi siamo destinati a ripercorrerlo per sconfiggere Nashandra per allontanare dal suo ricordo quella donna che lui stesso può aver maledetto perché come vediamo dal quadro che ci troviamo nel castello di Drangleic lei può essere stata maledetta e questa cosa qui è una cosa molto importante perché noi quando avanziamo nel viaggio quando abbiamo raccolto le anime degli antichi abbiamo finalmente accesso ad una zona che ci lascia parecchio sbigottiti quando ci arriviamo perché noi pensiamo di essere quasi alla fine del gioco perché tutti più o meno l'abbiamo pensato una volta varcato le soglie del santuario d'inverno e una volta entrati nel tunnel che ci avrebbe condotto fino al castello di Drangleic ci siamo ritrovati con una sorpresa molto molto particolare potrebbe essere peggio potrebbe piovere va peggio, piove ci ha spiazzato tutti quel cambiamento climatico ma è un'ulteriore testimonianza che il viaggio che noi intraprendiamo attraverso Drangleic avviene in momenti molto diversi e molto distanti fra loro quindi in questo ricordo che noi stiamo vivendo abbiamo una giornata piovosa al castello di Drangleic un cielo oscuro che non ci permette di vedere il resto del mondo quando quasi fosse un luogo isolato un luogo a sé e diciamo che come i personaggi hanno la loro versione magari vuota o viva possiamo calcolare che anche i posti possono avere una cosa del genere perché abbiamo visto che persino un quadro può essere maledetto nel nostro viaggio arriviamo comunque ancora attraverso i falò alla villa di Magiula qui troviamo questa stanza con questo libro enorme dove ci sono i segni del passaggio di uno studioso e questo studioso probabilmente è Lord Aldia colui che troveremo più avanti dopo aver raccolto i sigili del re in quello stanzino rinchiuso e si presenterà a noi come Navlan si presenterà a noi solo se saremo non morti affidandoci appunto delle missioni missioni legate a doppio filo con Magiula Magiula è il posto dove lui ha condotto i suoi primi studi lo si vede anche perché appunto lì ci sono quelli che ho etichettato come i ricordi dei posti dove lui è andato a caccia di ciò che gli serviva probabilmente perché ha sfruttato un po' tutto il mondo perché lo ha attraversato quando le quattro anime sono state separate e quando il potere del ricettacolo si è distribuito in tutti i falò permettendoci di viaggiare e con questo viaggio lui ce lo fa sfruttare a pieno facendoci tornare a Magiula per compiere le sue missioni da sicario facendoci uccidere personaggi legati anche al suo passato personaggi che hanno ancora abbastanza memoria rispetto agli altri parliamo di Gilligan che ci permette di scendere nel sottosuolo o di Kale che ha addirittura la concezione di tutta la superficie o di Felkin che ha studiato le arti oscure quelle che poi sono state applicate nei costrutti di Aldia una Vlan che può aver replicato a sua volta quello che abbiamo visto all'inizio come Ornstein ricreandolo da un ricordo, da un gigante, da un santo del passato ricreandone un soldato del presente diciamo che può averlo rianimato dalla sua tomba e oppiazzato in un ricordo e soprattutto ci fa uccidere anche l'Araldo l'Araldo che è la musa con lei che ci ispira, con lei che ci guida in questo cammino con lei a cui potevamo diciamo attribuire il ricordo del viaggio perché fondamentalmente lei può essere anche presa come ultima guardiana del fuoco come la tessitrice che avevamo visto nel primo video con lei che ha tirato le fila le trame di tutto quanto eppure lei può essere una sorta di Virgilio nell'inferno, nel limbo nel purgatorio che è il nostro viaggio attraverso Dranglitch e l'inferno è il ricordo di qualcun altro e come abbiamo visto il ricordo del Revendrick che ai nostri occhi altro non è che un Chosen Undead non il Chosen Undead perché ce ne sono stati svariati il discorso potrebbe andare avanti andrà avanti però ci prenderemo qualche giorno di pausa in attesa che esca la patch Scholar of the First Sin la proveremo e vedremo quante cose del nostro discorso potranno essere confermate e smentite potrebbe essere peggio potrebbe piovere grazie a tutti grazie a tutti